Io adesso ti farò vedere dei dolci che fanno un po' cacaglia. Questo si vede proprio la mano, c'è la mano giusta. Come lo chiameresti questo dolce? Muffa poix. Muffa poix è bello. Questo è un mix tra un plasmon, un flauto e un... Una rottura di un'autostrada. Oh bello. Ma questo è il ganso, l'utilizzo della teglia. Oh bello. Perché poi è verde, non capisco perché è verde. Non sono savoiardi, sono zucchine secondo me. Questo però è un colpo al cuore ragazzi, questo vado via.